Sant'Ignazio di Loyola Sant'Ignazio di Loyola 1491-1556 Religioso e militare spagnolo, fondatore della Compagnia di Gesù Proclamato santo dal Papa Gregorio XV In esercizi spirituali, edizioni San Paolo, dice 17.1, la diciassettesima Giova molto che chi dà gli esercizi, senza voler chiedere né conoscere i pensieri e i peccati personali di chi li riceve 2. Sia fedelmente informato dalle varie agitazioni e pensieri che i diversi spiriti suscitano in lui 3. Affinché, secondo il maggior o minore frutto, possa dargli alcuni esercizi spirituali convenienti e conformi 3. Alla necessità dell'anima così agitata Commento Chi ha raggiunto la sua evoluzione, o da religioso o da ateo, invariabilmente sente di comunicare l'amore verso gli altri nel modo più congeniale alla sua natura Chi ha raggiunto la sua versa Grazie a tutti.